Musica Bentornato Goodlier, bentornata Dopo aver parlato di backup ora ti descriverò il naturale proseguimento ossia il ripristino Nel caso in cui dovresse nascere qualche problema hai due possibilità oggetti quel che ti sia rotto e ricomprarne un altro oppure lo ripari In termini informatici è vero lo stesso In alcuni casi dovrai ricomprare ma in altri ti sarà sufficiente riparare Proprio di quest'ultima azione ora ti parlerò Il termine tecnico a cui mi riferisco è ripristino di file o del computer Ti descriverò esplicitamente l'aspetto software tralasciando l'aspetto hardware Cos'è un ripristino? Come certamente intuirai indica una procedura che riporterà lo stato di un computer dal punto di vista software ad una condizione precedente e normalmente funzionante La condizione è riferita ad una data una posizione temporale In sintesi riporterai il tuo computer ad una situazione definita o da te o dal costruttore per quel che riguarda il sistema operativo i suoi programmi, i driver installati in quel dato preciso momento a quel giorno e a quell'ora ben definita Quanto detto è valido per linee generali perché nel dettaglio in base a ciò che dovrai ripristinare eseguirai un'operazione inerente proprio allo scopo che dovrai ottenere Mi spiego Le ipotetiche operazioni che potrai scegliere di eseguire sono o ripristinare uno o più file o ripristinare la configurazione di sistema di Windows o ripristinare il file immagine del sistema operativo o infine ripristinare il computer alla configurazione di fabbrica Questo è da intendersi nel caso in cui tu voglia ripristinare uno o più file o perché sono andati persi o per la necessità di tornare ad una versione ben definita precedente degli stessi La realizzazione di questo ripristino varierà in base al programma che hai utilizzato proprio per generare il backup quindi la fonte e naturalmente per realizzare l'operazione inversa ossia quella del ripristino dovrai di norma impiegare proprio lo stesso programma eccezioni a parte La procedura sarà denominata la procedura sarà denominata con il termine restore o ripristino o cose del genere è una procedura guidata e abbastanza intuitiva il tempo varierà in base alle dimensioni del file da ripristinare Il ripristino di configurazione di sistema è un'opzione che è integrata all'interno del sistema operativo Questa operazione ti permetterà di risolvere alcuni problemi relativamente semplici sopraggiunti al sistema operativo Tale ripristino non intaccherà i tuoi dati personali come ad esempio documenti, foto, video, musica o cose del genere ma andrà a cambiare le informazioni presenti nel registro del sistema operativo i programmi e i driver ripristinandoli ad una determinata data oppure rimuovendoli se a quella data quando è stato generato questo punto di ripristino non erano ancora presenti quindi installati nel sistema operativo Tale ripristino si può realizzare naturalmente se in precedenza sono stati creati dei punti di ripristino e questi punti o sono creati automaticamente dal sistema operativo oppure sono creati da te a piacere e quando desideri Se dopo l'installazione ad esempio di programmi driver il sistema operativo dovesse diventare instabile tu puoi fare dietro front e riportare alla piena funzionalità dello stesso sfruttando proprio i punti di ripristino creati precedentemente la data di nascita del problema Avviando tale procedura potrai scegliere uno o più punti di ripristino o da un calendario o da una lista evidenziata durante la procedura La chicca di tale azione è che puoi decidere di annullare l'ultimo ripristino eseguito se non hai recuperato la piena funzionalità del sistema operativo e quindi testare un punto ancora più lontano rispetto alla data odierna Ecco invece il ripristino del file di sistema che ritengo la parte più essenziale per quel che concerne il ripristino di file Infatti il file immagine come già ben sai rappresenta un singolo file che viene memorizzato su disco rigido o su altra periferica e che contiene tutte le informazioni che poi dovranno essere masterizzate su un disco oppure su altra periferica La realizzazione di un file immagine come abbiamo visto nelle precedenti lezioni per la realizzazione dei backup varierà in base al programma che impiegherai e quindi anche il ripristino di un file immagine potrà essere diverso a seconda dei casi a seconda del programma che impiegherai Più avanti nel percorso spiegherò le azioni da seguire in base al tipo di programma che sceglieremo di volta in volta Quindi visionerai anche l'aspetto pratico Ora come informazione di massima sappi che all'interno del sistema operativo c'è proprio integrata una funzionalità per creare un file immagine e successivamente per poterlo ripristinare grazie a una procedura ben definita Questa operazione infatti ti permetterà di eseguire il ripristino dell'intero sistema operativo nel caso si verificano dei gravi danni, gravi problemi di stabilità come dei crash oppure l'impossibilità di avviare il sistema operativo stesso o se hai subito una contaminazione da virus oppure semplicemente perché hai notato le prestazioni del tuo sistema operativo essere degradate e quindi per varie ragioni riterrai di doverlo ripristinare a quella precedente configurazione Senza perdere troppo tempo infatti potrai riportare il tuo sistema operativo ad una piena funzionalità in pochissimi minuti Infatti questa operazione si differenzia dalla formattazione e reinstallazione in quanto non devi impiegare il tuo tempo per installare il sistema operativo i programmi, i driver delle periferiche e altre impostazioni di programmi varie Nel file immagine è già presente tutto perché lo avrai creato partendo da una condizione software completa e funzionante che avrai realizzato proprio al termine di una formattazione e reinstallazione del sistema operativo prima in pratica di iniziare ad utilizzare la tua macchina La formattazione quindi deve essere un evento raro e in linea teorica dovrai eseguirla solo all'atto della tua prima installazione dopodiché accederai sempre a questo file immagine qualora ne avessi la necessità Ne beneficerai in tempo, stress e rischi di incompatibilità in quanto avrai creato il tuo software ideale per poter raggiungere i tuoi scopi Termino ora descrivendoti il ripristino alla configurazione di fabbrica Se hai acquistato un computer o altro dispositivo informatico potrai notare che il costruttore al suo interno ha inserito una partizione dedicata a tale scopo Di norma non è visibile questa partizione tramite esplora risorse ma tramite una funzione interna al sistema operativo o con altri metodi Questa operazione ti può tornare utile a mio modo di vedere qualora tu decidessi di rivendere il tuo dispositivo In quanto ripristinerà il computer allo stato della sua prima accensione A volte proprio all'atto della prima accensione potrebbe essere avviata la procedura per creare il backup Quindi il file immagine per ripristinare il computer alla configurazione di fabbrica Per avviare tale ripristino dovrai eseguire un'azione che può cambiare in base alla marca o al modello del computer E quindi la soluzione per realizzarlo è andare ad individuare o tramite il libretto di istruzione del computer Oppure tramite il file PDF che di norma è inserito all'interno del disco allegato al computer Per evidenziare quale tasto o quale procedura eseguire in fase di accensione per avviare la procedura di ripristino alla configurazione di fabbrica In alcuni casi questa opzione è anche evidenziata a schermo all'atto dell'avvio E' pur vero che potrai comunque accedere a tale partizione in qualsiasi momento in base alle tue necessità Ma in quanto dominatore o dominatrice del computer di certo non potrai lasciarti sedurre ad una configurazione così semplicissima E non generata e dedicata in base alle tue necessità Infatti acquistando un computer con sistema operativo installato ti vengono inserite una quantità impressionante di altri programmi E troverai frequentemente delle versioni trial che sono versioni demo dimostrative che avranno una scadenza di norma ad un mese dall'accensione E quindi con possibilità di acquisto trascorso tale termine O peggio ancora troverai programmi ritondanti quindi doppie o triple copie di programmi che seguono le stesse funzioni Ciò naturalmente potrebbe affaticare il sistema operativo già appena nato Allora senza fare troppo estremismo inutile Quali sono le azioni che io farei e che voglio condividere con te? Seleziona subito i programmi completi Naturalmente disinstalla quelli che hanno versioni limitate nel tempo oppure a pagamento o peggio ancora i programmi doppi Installa dopo di ciò solo altri programmi necessari al tuo lavoro Esegui al termine una bella pulizia con determinati programmi per realizzare l'ottimizzazione del sistema operativo Ed infine crea il tuo bel file immagine a cui accederai qualora fosse necessario Senza quindi tornare alla configurazione di fabbrica creata dal costruttore A te la decisione se rimuovere al termine la partizione fornita dal costruttore Per il ripristino alla configurazione di fabbrica oppure lasciarla Come contorno aggiungo che utilizzando quello che viene definito come disco di ripristino Che tra l'altro è anche equiparabile al disco che ti viene fornito Nel caso in cui tu acquisti una versione sul supporto del tuo sistema operativo Dicevo che questo disco di ripristino oltre a generare l'ambiente necessario a poter andare a pescare Per evitare il file immagine che avrai generato per ripristinare il computer Ti darà anche la possibilità di eseguire altre funzioni per tentare di eliminare vari problemi del sistema operativo La cosa più semplice da eseguire è quella di riparare errori relativi all'avvio del sistema operativo Se ad esempio qualche file fosse andato perso o fosse stato corrotto o danneggiato da qualche malware E quindi risolverti un problema molto grave in pochissimi minuti Bene, alla prossima lezione per altre informazioni didattiche Ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima